Ciao ragazzi, qui è Total Cards, oggi siamo qua con l'apertura di questo blister della collezione Calciatori Venini 2023-2024 Questo è un blister normalissimo che contiene 5 bustine, però a differenza delle 5 euro, costa 4,90€ Quindi 10 centesimi di sconto, troviamo 5 bustine all'interno Nulla ragazzi, qua dietro ci sono delle carte molto interessanti da trovare, come Zirze, Turam, Rabiot Ho già fatto il video sullo starter pack, vi consiglio di andare a vederlo, magari qualcosa di carino potremmo trovarlo Adesso andiamo, vorrei salvarmelo, però non credo di riuscire, quindi andrei in qualche modo a provare No, niente, distrutto, perfetto, non fa niente E dentro abbiamo i nostri pacchetti, quindi così si presenta E qua dentro i nostri pacchetti, che vi ricordo quest'anno i pacchetti hanno il prezzo di 1 euro al pacchetto Con noi abbiamo la carta di Lautaro Martinez, sperando che ci porti fortuna Vi ricordo che il 16, se non sbaglio, uscirà il vero e proprio starter pack Con all'interno altre carte da collezionare, come Lautaro Martinez, se non sbaglio, una di queste di Reao Quindi, carte che non dovete sicuramente farvi scappare Adesso andiamo a aprire questi pacchetti Iniziamo subito ragazzi da questo qui E vediamo un po' cosa ci esce all'interno Già vedo una carta che mi piace Eccola qui, Mattia Sule Giocatore che sta facendo veramente molto molto bene quest'anno a Frosinone E si sta riscoprendo un ottimo giocatore Quindi Mattia Sule Poi abbiamo Vagna Milinkovic Savic Portiere un po' altarinante, un po' no Jean Cajuste del Napoli Secondo me un grandissimo no, però secondo me un ottimo giocatore Gabriel Strefesta, quindi perfetto, prima doppia Poi abbiamo la carta celebrativa con il codice dietro del Parma Abbiamo tre giocatori del Parma Lo stemma della Lazio e la squadra dell'Inter Eccola qui, molto carina, la squadra dell'Inter, perfetto Il primo pacchetto, dai, non l'abbiamo trovato vero e proprio top Abbiamo trovato Sule, Cajuste, comunque qualche carta l'abbiamo trovata Comunque secondo me è stato veramente fatto un ottimo lavoro da Panini Perché rispetto all'anno scorso mi piacciono veramente molto molto di più queste carte E inoltre secondo me il fatto di mettere più carte nelle bustine è veramente una scelta azzeccatissima E si doveva fare secondo me Andiamo avanti con il prossimo Sperando che qua ci sia Diego Llorente Eccolo qui, della Roma Prelevato lo scorso estate da Leeds Quindi eccolo qui, Diego Llorente Poi abbiamo la squadra del Bari Ehm... Chouma Chouna, la serenitana giocatore che non ho mai sentito Strano Ok Beuchema del Bologna E poi abbiamo... Oh, prima c'è la carta del Pisa La prima carta che trovo così è di Churria Una carta veramente stupenda ragazzi Le ho viste un po' le Panini Elite si chiamano Ecco abbiamo Churria, veramente molto molto bella Perché sono poi in questa posizione da fermi La carta in generale è spettacolare Così come gli Scudetti Ma queste secondo me hanno una marcia in più Non male Questa carta E poi abbiamo Le squadre di Spal e Torres E poi tre giocatori De Rafferrol Pisalò Ok ragazzi Non male, non male Abbiamo trovato un'altra carta Chissamente non male Ho già trovato un sacco di carte della Roma Non so, ci sono sempre le annate dove si trovano Carte di una squadra e carte dell'altra Quest'anno È la Roma Così sto mettendo un po' storte Ok, perfetto Andiamo avanti Sì, sono stessi storte Però va bene Vediamo un po' cosa c'è qua dentro Ok Abbiamo Marco Sportiello Del Milan Leonardo Pavoletti Citando una sua frase È solo uno scarpone Ma gli ultimi dieci minuti diventa Van Basten Gli ultimi dieci Gli ultimi minuti Giocatore che ha fatto veramente gol molto molto pesanti Rolando Mandragola Ex Juve Riccardo Calafiori Poi un'altra Panini Elite Non male Qua andando abbiamo Forza Granata E stavolta di Adrian Rabiot Qua il livello si alza Perché passiamo da Churria a Rabiot Veramente molto molto carina Vabbè abbiamo Tre giocatori del Bari Nella squadra del Modena Però ragazzi Tutto sommato stiamo andando bene Abbiamo trovato Churria Il Rabiot speciale Poi abbiamo un Sule Qualche altra carta Cajuste Cioè tutto sommato Diciamo che sta andando anche Meglio di quanto mi aspettassi Diamanti Penultima bustina Ok Sperando magari trovare qualcosa Anche di Milan Inter E tutto il resto Ok eccoci qui Abbiamo La squadra della Fiorentina femminile Rafa Toloi Dell'Atalanta Poi Elmas del Napoli Biol Dell'Udinese Forza Palermo Tre giocatori Della Cremonese Tre giocatori del Modena Per finire la carta Ascoli e Bari De Scudetti Questo pacchetto è un po' così Ma ci sta ragazzi L'abbiamo trovato anche Elmas Giocatore Che secondo me Meriterebbe più spazio In un'altra squadra Però vabbè Ultima bustina Vediamo un po' Il nostro l'abbiamo fatto Comunque tutto sommato Vediamo Se chiudiamo in bellezza Oppure no Vediamo un po' Iniziamo con La squadra Del Pomigliano Poi abbiamo Fabiano Parisi Della Fiorentina Radoncic Giocatore Veramente strano Di un talento incredibile Ma che non riesce a spriversi Con Juric L'Inter Femminile Poi qua abbiamo La carta Della Sampdoria La squadra Della Atalanta Tre giocatori Del Palermo E poi Perugia E Olbia Vabbè ragazzi Vederei che per questo video Possa essere tutto Tutto sommato Ci è andata come vi dire Sostanzia bene Abbiamo trovato belle carte Soprattutto queste due carte Di Rabiot E Surria Nulla ragazzi Noi ci vediamo Ad un prossimo video Vi ricordo che il prezzo Del brister è 4,90 Noi ci vediamo Ad un prossimo video Ad un prossimo video Ad un prossimo video